Alla via i saldi d'estate 2017 e nonostante il gran caldo di questi mesi i consumi sono stati lieviti, i segnali di ripresa sono ancora troppo plebili. Secondo uno studio condotto dalla Comfort Commercio gli italiani spenderanno circa 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3 miliardi circa. Per il Presidente della Moderazione e Moda Italia vicepresidente della Comfort Commercio Borghi la situazione non è certamente erosea. Naturalmente un giudizio sull'esito finale di questa stagione di saldi dovrà tenere conto delle intollerabili anticipazioni degli sconti lanciato dalle grandi catene. Non ci stancheremo mai di segnalare azioni di concorrenza sleali alle autorità competenti. Non c'è niente di peggio che scrivere leggi e regole il cui rispetto non può essere garantito. Mimmo si è una speciale news.